Buona giornata. Una bambina teneva due mele con entrambe le mani. La mamma le si avvicina e chiede alla figlioletta se potesse darle una delle sue due mele. La bimba rapidamente morde l'una e poi l'altra mela. La mamma sente il sorriso sul suo volto congelarsi e cerca di non rivelare la sua delusione. Ma la bambina le porge una delle due mele dicendo tieni mammina questa è quella più dolce. Non importa chi sei come sei vissuto e quanta conoscenza pensi di avere ritarda sempre il giudizio. Dai agli altri il privilegio di spiegarsi. Quello che percepissi può non essere la realtà. Con questa bellissima storia vi voglio dire dai come dice la storia agli altri il privilegio di spiegarsi. Perché tante volte quello che a primo sentore pensiamo essere cosetto poi dopo quando i fatti si palesano per così come sono nella realtà nella vera realtà solo allora pensiamo pensiamo a se avessi aspettato se solo avessi indugiato nel dare il mio giudizio che bel rapporto che sarebbe venuto fuori che bella cosa sarebbe venuta fuori. Ecco oggi vi chiedo di avere un atteggiamento mindfulness consapevole pronto a ascoltare prima di reagire ascoltare per il vostro bene perché così sì che verranno le cose che vi aspettate e che volete perché tante volte è proprio così prendi mammina questa è quella più dolce io mi sono impegnato per far sì che questa cosa fosse per te quindi attendiamo per un giudizio migliore Daniele Paci per felicità e pace Om Santi 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 Buona giornata ciao